La globalizzazione ha aiutato attraverso un fenomeno positivo, cioè la rottura, il superamento dei confini, per cui incontri gente di altri paesi, parli altre lingue, ascolti musica di altri paesi, consumi prodotti che ordini con un click, che vengono da altri paesi, guardi i figli di altri paesi, eccetera, quindi abbatti le barriere, ha portato a una domanda di nuove barriere. Cioè, in un certo senso, un confine è un qualcosa che ci aiuta a definirci collettivamente. Ci protegge anche. Sì, in una maniera strana, perché un confine è una definizione. La parola è molto bella, tra l'altro, confinis, è la fine che ho in comune con qualcun altro, ma nello stesso tempo mi definisce all'interno. Allora, può essere un confine, i simpatizzanti del Padova o del Cittadella, i tifosi, i simpatizzanti di una certa politica, i leghisti o quelli di rifondazione o del Pedro, quello che si vuole. Sono confini identitari che aiutano a definirci. Allora, in una situazione in cui molti confini sono crollati, sono letteralmente insensati, cioè non hanno più senso, in particolare per i giovani, si reinventano. C'è una domanda di nuovi confini. Io li chiamo gli ismi, cioè gli identitarismi, i fondamentalismi, i razzismi, i localismi, gli antisemitismi, gli antiqualcosismi in generale, i nazionalismi. Quindi le esigenze di appartenere a un gruppo, sostanzialmente. C'è una domanda.